Siamo con Peppino Tirri, Agragas in partenza per Napoli, i ragazzi si sono già imbarcati, però mi pare di capire che oltre Andrea Scruigli, del quale magari ci parlerà e ci dirà qualcosa, anche Salandria non sta benissimo. Purtroppo partiamo senza dopezzi importanti, Salandria e Scruigli ci dispiace moltissimo, però andremo a fare la nostra partita lo stesso. Abbiamo già le condizioni di Andrea, sappiamo se è di nuovo un problema di crociato come l'anno scorso oppure semplicemente benissimo? Potrebbe, aspettiamo l'ultima risonanza lunedì e poi vediamo. Salandria? No, Salandria è una contrattura, dovrebbe essere già pronto per la prossima settimana. Che significa partire per una gara così importante, sapendo di non poter contare su due dei giovani più importanti che avete in rosa? Mi preoccupo un po', però spero che quelli che giocano tireranno fuori tutto quello gano. Va bene, buon viaggio, buona partita e ci vediamo a ritorno. Grazie.